Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi preparerò un secondo piatto a base di pesce, il polpo con le patate. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci serviranno. Gli ingredienti che ci serviranno sono mezzo chilo di polpo fresco, mezzo chilo di patate, 40 grammi di succo di limone, 40 grammi di olio di oliva, sale quando basta, pepe nero quando basta e foglie di alloro quando basta. Sui fornelli ho messo due pendole con l'acqua, in questa qua andrò a mettere il polpo mentre in questa qua andrò a lessare le patate. Dal momento che iniziano a bollire aspetteremo 30-40 minuti, comunque faremo sempre la prova della forchetta. Mentre in questa pendola aggiungerò le foglie di alloro e aspetterò l'ebollizione. L'acqua bolle. Arrivata a questo punto prendiamo il nostro polpo e prima di inserirlo completamente facciamo arricciare i tendacoli, quindi facciamo questa operazione. 1, 2, 3, 4 e lo immergiamo completamente. Mettiamo di nuovo il coperchio, fiamma moderata e lasciamo cuocere per 20-25 minuti perché ricordate che ogni mezzo chilo di polpo cuoce circa 20-25 minuti. Mentre il nostro polpo e le patate cuociono andiamo a prepararci la salsa citronette, quindi prendiamo la ciotolina con l'olio, filtriamo il limone, aggiungiamo il sale. Questa sarà la salsa che ci servirà per condire il polpo con le patate. Il nostro polpo è pronto, adesso lo attiriamo fuori e lo adagiamo dentro un piattino. prima di tagliarlo a cubetti lo lasciamo indiepidire per circa 10 minuti. Le patate sono cotte, le tiriamo fuori, togliamo la pellicina e le lasciamo indiepidire anche questi 10 minuti. Adesso possiamo iniziare ad assemblare il tutto, quindi prendiamo il polpo, lo tagliamo, lo taglieremo a cubetti. lo mettiamo dentro una terrina. a Tagliamo anche le patate, sempre a cubetti, e le inseriamo dentro il polpo. Adesso metto l'emulsione di olio e limone e sale che ho precedentemente preparato. Metto il prezzemolo, un po' di pepe nero e adesso sono pronta per mescolare. E il polpo con le patate è pronto! Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete! Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete rimanere aggiornati su tutte le ricette che andrò a fare durante la settimana. Un bacione grande e alla prossima videoricetta! Grazie per la visione! Ciao! 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 Ciao!